la birra di oggi è secondo me una di quelle etichette che dal mio personalissimo punto di vista manda un po in tilt quella per fortuna molto ristretta a fetta di birra geek estremisti e per così dire fondamentalisti i talebani della birra artigianale per così tiro e craft nati se vogliamo inventarci è un neologismo questo accade perché mi sembra di notare che un birrificio forse accade più in italia ma non saprei se un birrificio dicevo inizia a diventare un minimo famoso inizia a espandere la propria rete di distribuzione a produrre più e tolte di quelli che il vero birra geek reputa è un presunto limite insomma se il birrificio inizia a diventare pop per usare un termine preso in prestito dal modo della musica ecco in quel caso secondo quella piccola fetta di appunto cosiddetti estremisti nel mondo della birra poi il birrificio avrà perso tutto l'interesse anzi sarà etichettato come venduto commerciale mainstream eccetera eccetera per tornare proprio al paragone della musica avrete sicuramente anche voi un amico o un'amica che ascolta più o meno lo stesso genere di musica che ascoltate voi ma i gruppi che gli o le nominate sono sempre troppo mainstream sempre così commerciali non come quelle che ascolta lui o lei appunto quelle band con poche decine di follower che registrano una cantina con una qualità audio per usare un eufemismo decisamente migliorabile ma che sono puri rappresentano davvero l'anima del rock and roll del prog del metro di qualsiasi altro genere siete ascoltatori ecco la stessa cosa accade un po anche nel mondo delle birre ma la birra di oggi secondo me mette un po in crisi questo teorema è questa anomalia in questa strana equazione matematica che decreta è bene ricordare per una fetta piccolissima di pubblico e commercialmente irrilevante se un birrificio sia degno o meno di essere bevuto perché questa iconica birra la triple dello staminé degar piccolo apprezzatissimo locale nel centro storico di bruges è così amata giustamente da tutti i birri del mondo nonostante sia brassato da uno dei più grandi e importanti forse gruppi industriali belgi ossia bravo di van steenberg produttore della golden drag per intenderci possiamo quindi ammettere che anche grandi gruppi possano a volte brassare anche birre buone oppure c'è qualcos'altro cosa che va al di là della semplice birra qual è la soluzione a questo enigma vediamo quindi di capire come questa birra e magari a fine video riusciamo a dare una risposta alle domande di questa lunga introduzione il birrificio come già anticipato è la brewery van steenberg ci troviamo infatti nella cittadina di earth velde nelle fiandre orientali in belgio appunto il nome di questa birra è molto semplicemente triple van de gara lo stile quello di una belgian triple riferimento 26c per usare la codifica del bjcp non sono indicate le unità di amaro ma range previsto per questo stile se vogliamo appunto farci un'idea per quanto è bene ricordare sia poco utile come informazioni diciamo in assoluto il valore numerico comunque per questo stile va dalle 20 alle 40 unità di amaro grado alcolico a doppia cifra siamo infatti sugli 11 abv mentre per il prezzo vedete che non ho compilato questa linea perché le bottiglie da 33 sono acquistabili solo in loco e visto che questa bottiglia mi è stata regalata da un amico che è appena tornato da bruges non ho volutamente cercare il prezzo di un regalo per quanto riguarda il bicchiere direi pallone o tulipano anche se è bene precisare all'asare alla stamina de gar viene servito in un bicchiere caratteristico di cui parleremo dopo e per quanto riguarda la temperatura di servizio che vi suggerirei per questo stile è tra i 10 e 12 gradi centigradi alcuni appunti su questa scheda partendo dal fondo come dicevo il bicchiere nella quale questa birra è servita in loco è molto particolare ricorda per certi versi bicchieri diciamo in voga negli ultimi anni per le neipa o le easy ipa ma di base si tratta di un bicchiere a chiudere solo piuttosto basso e piuttosto largo il servizio tradizionale presso appunto il locale stamina de gar di bruges prevede anche del formaggio a cubetti il tutto appoggiato su vassoio decorato con una sorta di finto pizzo merletto in plastica elemento tra l'altro quello dei merletti tipico della cittadina di bruges e proprio il locale è forse la chiave al nostro dilemma o almeno ci può dare una prima parziale risposta alla domanda di inizio video questa birra viene infatti brassata solo ed esclusivamente per lo stamina de gar a bruges locale storico di questa città è molto molto caratteristico sia per la location sia per l'arredamento eccetera eccetera il pub ha solo quattro spine tutte con birra di van steenberghe ossia la baptist blanche la guldendrack la guldendrack quadruple e la triple de gar appunto più 140 etichette in bottiglia più o meno principalmente marchi belgi molto noti e commerciali come quack la triple carmelie la good and carlos schuf duvel marezzus eccetera eccetera quello che qualsiasi persona vi dirà e ne parlai anch'io nel resoconto del mio viaggio in belgio nel 2019 è che bere in loco è fondamentale nella valutazione dell'esperienza gustativa in toto di una birra e infatti potete leggere online pagine e pagine di dettagliate dettagliatissime edulcoratissime descrizioni dell'esperienza di bevuta al de gar a volte al limite quasi del diabete da quanto sono mielose certe pagine ma quindi questo potrebbe essere un primo indizio forse non è solo la birra a essere ottima ma l'esperienza in toto essere così coinvolgente e caratteristica ma tornando alla birra questa triple viene servita solo al de gar punto alla spina ma è inoltre possibile acquistare solo lì anche una versione in bottiglia fino a poco tempo fa era disponibile solo la magnum da un litro e mezzo mentre da qualche anno due tre anni sono in vendita anche le bottiglie da 33 come questa cosa che leggo sempre online ha fatto stranamente indignare i puristi del settore rendendo di fatto meno esclusiva questa birra ok l'esperienza di bere questa triple in quel preciso luogo è senza dubbio persa se me la bevo qui a casa ma non so non ne farei un dramma se qualche bottiglia esce dal locale e soprattutto a differenza di quello che leggo online non accuserei clienti senza cuore che osano portare via le bottiglie di triple da quel luogo magico ma semmai la colpa se proprio di colpa vogliamo parlare almeno al 50 per cento dei proprietari del locale e che hanno scelto di venderla appunto il libero mercato si fa in due domanda e offerta d'altra parte e quindi anche se abbiamo in parte secondo me risposto al dilemma vediamo di capire però com'è questa birra partendo dall'estetica di questa bottiglia c'è una doppia anzi triple etichetta perché ce n'è una quadrata frontale una sempre rettangolare posteriore e la fascetta qui nella parte posteriore tutte e tre le etichette sono con un fondo nero idem per il tappo che non ha alcuna decorazione sembrano i tappi quelli super cheap che compro da mister malt per le per le bire fatte in casa sull'etichetta c'è il logo di degar che è semplicemente la scritta con questo font sans serif di colore dorato su fondo nero degar appunto e questo logo che richiama l'ingresso al locale che è appunto in questa viuzza molto stretta con dei gradoni e si accede da questa porta altrettanto stretta quindi è un po' iconica l'immagine perché appunto si rifà esattamente all'ingresso di questo di questo locale mentre nella parte posteriore molto molto semplice ci sono tutte le informazioni senza alcuna altra decorazione di tipo grafico e direi che siamo quindi giunti al momento di aprire questa bottiglia come anticipavo prima il bicchiere secondo me per bere appunto può andare bene un pallone o un tulipane in questo caso un pallone di san bernardus ok c'è un pochino di fondo immagino che quindi sia rifermentata in bottiglia ovviamente come vuole la tradizione belga e quindi lascio il fondo nella nella bottiglia e passiamo all'analisi quindi è visiva e successivamente olfattiva e gustativa la schiuma è sicuramente abbondante con una grana media e abbastanza regolare schiuma di colore bianco la birra è un perfetto paglierino molto carico con riflessi luminosi molto 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 limpida riesco a vedere chiaramente anche qualche bollicina che si stacca dal fondo del bicchiere e passiamo al naso già importante mentre mentre la versavo allora partiamo dall'intensità aromatica che non è così elevata e comunque diciamo media o medio bassa ma a differenza appunto di questa intensità non particolarmente spinta e d'altro canto troviamo effettivamente un naso che belga fin dall'inizio e che ha tutti i descrittori tipici di questo tipo di di birre molto interessante molto complessa per provare a fare un po ordine anche mentale la prima parte secondo me è la parte fruttata frutta che spazia secondo me in particolare nel mondo degli degli agrumi sicuramente forse c'è anche una punta di pera ma principalmente arriva una parte agrumata in secondo luogo metterei invece la parte speziata sicuramente inferiore rispetto agli agrumi e si in fondo si sente anche secondo me una parte invece di miele che di solito è associata invece al ai malti chiari il naso sicuramente complesso interessante tutto perfettamente bilanciato forse mi sa rispettato un filo più di intensità proprio aromatica visto che già versandola mi sembrava appunto iniziare a sentire alcuni di questi profumi in realtà insomma se non siamo proprio con il naso sopra al al bicchiere non si riesce a sentire perfettamente appunto tutto il bucho aromatico e passiamo quindi al palato anche in bocca devo dire che è perfettamente in linea con quello che ci aspettiamo da una triple con quindi questa apertura un po amaltata un pochino più dolce non eccessivamente dolce devo dire ma che va via verso un finale più amaro o meglio soprattutto un finale un po più secco il gusto appunto spazia da questo iniziale leggero leggera dolcezza via via un finale sempre più più secco in realtà è una birra appunto mediamente amara mentre appunto poi questo altro gusto e altro olfato tornano più o meno le solite cose che abbiamo sentito al naso forse ci spostiamo più dalla parte grumata verso la per quanto riguarda il descrittore fruttato verso appunto frutta a pasta ma appunto c'è comunque questa frutta importante e questo bel finale secco non nei livelli tipo di certe bottiglie di west mal ma comunque un finale abbastanza secco che aiuta a ripulire come al solito gli unici gradi perfettamente nascosti ora che si è scaldato un pochino il bicchiere la birra all'interno del bicchiere si è leggermente scaldata e il bucchè si apre un po di più probabilmente era ancora un pochino fredda prima si riesce a notare anche una parte erbaccia che credo direvi dal luppolo sempre ovviamente sotto per l'intensità alle cose nominate prima ma appunto aggiunge un tocco di complessità in più quindi se dovessimo provare a tirare un po le conclusioni di questo video sì la birra è buona non c'è niente da dire dovremmo quindi possiamo ammettere che un grande gruppo industriale sappia fare anche birra buone sì secondo me non dobbiamo avere pregiudizi di alcun tipo anche se la classica frase che si dice sempre e mai si giustifica secondo me in maniera adeguata che il piccolo produttore artigianale ha una filosofia diversa è sicuramente vero perlomeno io la intendo come la filosofia nel senso la possibilità di sperimentare di ricercare è sicuramente maggiore in un piccolo birrificio che ha più libertà di movimento rispetto a grandi gruppi che poi devono assicurare di riuscire a vendere la birra che fanno e venderla tutta e venderla in tempi consoni alla loro filiera distributiva e al loro prodotto ma ciò non vieta che l'esperienza la tecnologia la qualità la ricerca e sviluppo l'approccio più scientifico e più è strutturato che ha un grande complesso industriale possa permettere anche di ottenere risultati buoni se non in certi casi anche migliore del piccolo artigiano che si deve occupare un po di tutto dalla produzione appunto alla distribuzione alla comunicazione alla contabilità spesso e così via insomma altra cosa che mi viene sicuramente in mente e mi sono segnato negli appunti sicuramente l'esperienza di bere la birra in loco incide e incide moltissimo quindi forse appunto sarei per esempio sei curioso di vedere come una birra del genere si potrebbe non so classificare in un concorso dove si beve diciamo alla cieca quindi senza sapere se il produttore è magari artigianale o industriale meno pensare grandi concorsi dove si possono iscrivere sia piccoli produttori artigianali sia grandi gruppi industriali e le birre vengono bevute da giurie molto esperte ma la cieca a volte anche grandi colossi industriali si piazzano molto bene con alcune birre ovviamente è bene ricordare secondo me come mi è già capitato di dire in tanti altri video che non tutte le birre sono uguali un conto è comprare una barrel age pasta e stout dagli USA che è già invecchiata a mesi se non anni cioè che ha mesi o anni di maturazione di invecchiamento e magari anche di ossidazione volutamente ricercata alle spalle tutt'altra cosa è per esempio prendere una lupolata una fresh shop o una session ipo o cosa del vecchio genere e fargli fare un viaggio da un posto all'altro quindi sì è essenziale bere sul posto ma come al solito oltre all'esperienza il fattore di non bere sul posto incide in maniera diversa su diversi tipi di birre ecco questo vorrei dire e sul lato opposto mi viene da pensare quindi lo stesso ragionamento può valere anche con altre birre cioè marchi industriali o comunque non super di nicchia non super ricercati o artigianali possono regalare esperienze appaganti in base al contesto al servizio al luogo al cibo all'atmosfera alla compagnia aggiungerei anche la classica frase che si sente dire nel mondo delle birre che la guinness bevuta a dublino nel nel locale di guinness è più buona della guinness bevuta nel qualsiasi alto irish pub del del mondo cito guinness perché c'era un grande gruppo industriale appunto allora sì probabilmente sì tutta l'esperienza incide non c'è non c'è nulla da fare non sarebbe non saremmo onesti se non ammettessimo questa cosa appunto bisogna quindi secondo me essere chiari se si sta valutando semplicemente la birra in sé come prodotto come liquido come bevanda o se stiamo valutando tutto dalla storia del birrificio al prestigio del birrificio all'esperienza appunto degustativa in in toto e quindi per ricollegarmi all'inizio del video cercherei sempre cerco perlomeno di essere il più possibile obiettivo nel video cercando di tenere conto di entrambi i fattori del bilancio cioè sia quello più oggettivo sia quello dell'esperienza in totale ma appunto eviterei secondo me di farci troppe paranoie sulla popolarità o non popolarità di un birrificio e soprattutto fare a gara chi ha il fermentatore più piccolo scol grazie a tutti